Sono in 9 dopo il ritiro di Enigmasi, lo schieramento Eleanor, ASM, Esterlight, Eiffelias, Eta Beta Spritz, LJI e Ezechiela in prima fila, Evelangevic, Eroica BF e Lertama in seconda. I favori sono per Eta Beta Spritz numero 4, Carmine Piscuoglio in sediolo. Macchina che accelera, partiti con Eta Beta Spritz che fila veloce al comando nei confronti di Eiffelias, poi Eleanor, ASM, scurva larga invece, LJ che poi prende sottotiro Eta Beta dopo i primi 200 metri. Le due in Pariglia, completano in 15-6 il primo parziale, insiste all'esterno LJ che attacca con decisione la favorita, si avvantaggia, non passa però. 400 metri comunque svelti, completati in 33, prende mezzo cavallo di margine ma con il sopraggiungere della curva però Eta Beta Spritz rientra all'avversaria, la costringe a cercare di accodarsi in seconda posizione. LJ si sistema in scia ora, dopo i primi 600 comunque molto svelti per la categoria 46, terza posizione per Eiffelias che cerca di riportarsi sotto e ora di uscire all'esterno. E' seguita da Eleanor, ASM, poi più indietro c'è Evelangevic, intanto gli 800 se ne sono andati in 1, 2 e 1. Numero 2, Ester Light, squalificato. Squalifica intanto... Tosso non l'aveva sentito male per Eiffelias ma Eiffelias continua a rimanere lì all'esterno, intanto il chilometro se ne è andato in 1, 18 e 4. E viene via in terza ruota a questo punto Evelangevic, debuttante, a 400 dalla conclusione, Eta Beta comunque ancora in buon margine di vantaggio. In seconda posizione rimane LJ, all'esterno c'è Eiffelias, si esaurisce lo spunto di Evelangevic, non viene avanti invece l'anore SM. Siamo al completamento della piegata con Eta Beta Spritz in largo vantaggio, ultimi 150 metri con Eta Beta Spritz che accelera nel finale, prende gran margine di vantaggio. Eiffelias si sbaglia, vince nettamente Eta Beta Spritz, secondo posto per il numero 5 di LJ, mentre per il terzo finiscono in linea. Eroica BF e un altro concorrente, andiamo a rivedere per il terzo posto, vedete la vittoria nettissima per Eta Beta Spritz che cogli così la prima vittoria in carriera, l'allieva di Andrea Sarzetto guidata da Carmine Piscuoglio, il secondo posto è per il numero 5 LJ che corre molto bene e al terzo, probabilmente il numero 8 di Eroica BF, riesce a salvarsi dagli avversari. Grazie a tutti.